Un grande risultato nell'interesse della città di Fano a difesa dell'acqua pubblica è stato conseguito durante la seduta del Consiglio Comunale del 9 settembre scorso, nel quale l'ordine del giorno della maggioranza è stato votato all'unanimità. Il documento era a firma dei consiglieri Bacchiocchi, Fulvi, Cucchiarini del PD e Luzzi di Sinistra Unita. Questo documento insiste su alcuni punti molto importanti che sono prima di tutto l'acqua è un bene comune e deve essere pubblica al 100%, in giusta considerazione sia del referendum del 2011 che dello stesso codice civile. Poi il secondo aspetto molto importante è che il Fano chiede che il servizio sia in house con un'azienda pubblica al 100%, dopodiché si insiste anche sulla autonomia della scelta del proprio gestore da parte dei comuni e si chiede alla Regione una maggior partecipazione nei processi gestionali e decisivi da parte dei comuni. Fondamentale, come sottolineano gli stessi consiglieri, è stato l'intervento del sindaco Seri. Non è stato un risultato scontato perché abbiamo riscontrato molte resistenze, soprattutto da parte del gruppo 5 Stelle, dove in qualche maniera ha ostacolato per ben due mesi la realizzazione di questo documento. Speravo sinceramente di poterlo tenere senza l'intervento del sindaco perché in numerose commissioni, anche in Consiglio Comunale, ci eravamo dati l'impegno di raggiungere un documento unitario. Così non è stato, c'è avuto l'intervento del sindaco, però alla fine abbiamo ottenuto ciò che volevamo, era il nostro documento che venisse approvato e così è stato.